Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video su Runeterra, è il primo video che facciamo dopo l'uscita della nuova espansione e per inaugurare questa nuova via io ho deciso di portarvi un mazzo che secondo me non è il più forte del meta attuale ma sicuramente rappresenta l'archetipo o insomma la meccanica più innovativa che è stata inserita con la nuova espansione sto parlando di Maokai e della meccanica del TOS che volevo mostrarvi con questo mazzo ho deciso di fare un mazzo che non comprende anche Naudilus perché credo che non siano del tutto sinergici insieme secondo me hanno bisogno di due mazzi un po' diversi per funzionare insieme andiamo subito a vedere il mazzo ecco qua il mazzo, ovviamente si basa tutto su Maokai la curva di mana è molto corta perché vogliamo fare in modo che la combo si attivi il più rapidamente possibile abbiamo poco interesse nel controllare troppo la board se non appunto con i minion che aiutano Maokai nel suo completamento alla quest ricordiamo che Maokai si evolve nel momento in cui la somma tra i follower o i campioni morti, alleati e le carte tossate arriva a un totale di 25 quindi anche mettere gente in campo comunque sia ci aiuta ad arrivare alla conclusione una volta conclusa la quest di Maokai l'idea è cercare, non sempre funziona ma l'idea è cercare con merce rubata e con il mercante di andare immediatamente a privare delle ultime 4 carte rimaste nel mazzo dell'avversario il nostro avversario che appunto quando pescherà poi al suo turno perderà immediatamente il game ovviamente non sempre queste carte le avremo in mano perché nel tossaggio del mazzo potremmo andarle a scartare oppure anche l'avversario potrebbe rubarcele purtroppo ho appena fatto una partita con Soul, tra l'altro streamer italiano che non ho registrato perché stavo ancora testando il mazzo in cui è successo di tutto, una partita incredibile tra cui vari furti di queste cose, si è arrivati a una carta a testa nel mazzo purtroppo non l'ho registrata ad ogni modo, come facciamo ad attivare però queste carte? abbiamo bisogno di saccheggio l'avvita saccheggio noi la attiviamo grazie allo Yord del Truffatore che ci dà in mano il colpo d'avvertimento che è quello che ci serve per attivare il saccheggio nel turno in cui vogliamo iniziare la partita inoltre in situazioni disperate la fedeltà, sebbene sia improbabile può millare il nostro avversario di una carta in più ho inserito come test card, diciamo, preso dell'immortale perché sto incontrando molte misfortune, anche molte fiora però, insomma, questi tre slot sono abbastanza a vostra discrezione se avete un meta diverso e quindi avete bisogno di altre carte se volete inserire magari Ruination perché non riuscite a gestire bene la board o aumentare in qualche modo i follower che vi possono tornare utili inoltre ho messo Elise, ma Elise e TF secondo me sono entrambi personaggi che possono essere affiancati a Mokai con successo quindi ho messo Elise perché probabilmente voi l'avrete in quanto due vi vengono regalate Twisted Fate appena uscito quindi preferisco agevolarvi nella costruzione del mazzo qualora voleste provarlo andiamo a giocare siamo contro Piltover, Noxus molto aggressivo come mazzo per noi non è il massimo gioca soltanto Jinx come Roe dobbiamo gestire i primi turni allora, il Rospos sicuramente lo teniamo l'asso del billiard è un po' rischioso sicuramente recupero no, in Irly almeno lo evitiamo magari più in là l'asso del billiard ha il problema che giocato a turno 1 qua sicuramente butteremo la carta quindi io lo andrei a sostituire per il momento cerchiamo qualcos'altro ma il secondo Rospo è onesto abbiamo già due merci rubate quindi in realtà la combo volendo ce l'abbiamo anche se contro questo tipo di mazzi spesso non possiamo andare proprio di combo pulita dobbiamo raschiare un po' dal fondo per trovare qualcosa di interessante direi che visto che attacchiamo a turno 2 diamo la precedenza ad Elise risponde con la depta e per noi è un problema perché ci facciamo praticamente due danni da soli se andiamo a a proporgli questo trade no, non mi piace non mi voglio prendere due danni fondamentalmente soltanto per farmi ammazzare un pezzo e aumentare di uno Maokai non mi pare worth ecco, Maokai di solito cerco di tenerlo in mano il più possibile contro un avversario del genere ci può anche stare in realtà a giocarlo immediatamente io andrei a fare così mi va bene così purtroppo questo 2-1 è fastidiosissimo per noi ok, allora per questo turno ci accontentiamo dello Yordle che ci dà un'ottima carta un'ottima carta in realtà ok va bene questo non possiamo evitarlo ci teniamo due mana non c'è bisogno di usarla adesso la carta ok, lo provo a rifare ed è adesso che noi lo neghiamo c'è comunque tanta gente da una parte voglio cercare di gestire un po' questa situazione siamo a 12 punti vita siamo bassi ok se avessimo tempo di giocare Mokai potremmo evocare il Sapling ma dubito fortemente che avremo due round di priorità prima che lui attacchi quindi sarei quasi per giocare subito il Rospo addirittura attacca subito va bene allora tradiamo qua così tradiamo qua così oddio in realtà potendo poi fare Mokai dovremmo anche fare un trade del genere va bene così siamo molto bassi siamo molto bassi ok andrei a pescare qui ci servirebbe Grasp l'abbiamo appena buttato purtroppo ok no perfetto si evolve immediatamente la situazione è molto molto brutta ma molto brutta ok potrebbe tornarci utile anche la nave no ok 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 questo è interessante allora noi prima giochiamo dobbiamo giocare questo in realtà se non abbiamo il mana per attivare il sapling per attivare il sapling cacciatore di jaul non erano male qui per andare a tradare anche se probabilmente ci avrebbero impedito dubito dubito sarebbe andato tutto bene beh qua noi dobbiamo fare così per forza speriamo che non possa fare beh a zero lui non può pulirsi la mano speriamo che non abbia un'altra jinx questi sono altri due danni eh va bene saranno quattro poi si attacca subito anche di più perché noi non possiamo bloccare tutti e cinque pezzi infatti sono altri cinque sono tre punti vita sono tre punti vita e niente sono abbastanza sono decisamente abbastanza potremmo provare a salvarci questi sono sette allora così per lo sport possiamo provare a salvarci pescando dal suo mazzo questa no questa neanche dovremmo riuscire a uccidere lui ecco questa potrebbe essere l'ultima ma da sola non basta no 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 siamo contro Swain Lux mazzo inusuale non so bene cosa aspettarmi marcia rubata mi sembra troppo presto per tenerla cerchiamo prima dei pezzi da mettere in campo non so di quanto possa essere aggressivo però Demasia non è mai non è mai rose e fiori i primi due danni sono nostri incredibile ok abbiamo una mano molto rapida in realtà molto rapida direi quasi da anti aggro va bene si ammazza un povero 2-1 lo accettiamo a questo punto io cerco di fare board mi sembra che lui non sia molto incline a mettere pezzi in campo botte con tutti ma semplicemente perché voglio evocare il ragnetto con con Elisa può pararci quello che vuole lui insomma siamo 11 su 25 15 virtualmente anche 17-18 paradossalmente abbiamo quasi 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 fatto da questo quasi vediamo questo allora ci attaccherà con il ciccione noi variamo il ciccione e ne arriva un altro di ciccione va bene finché abbiamo tre mana non è non è utile cioè buttare a mare lo teniamo per quando proprio non ne possiamo fare a meno mi li prendo questi quattro anche perché così quando morirà lui effettivamente cureremo del massimo facciamo così attacchiamo comunque lui col 4-4 parerà 2-3 lo mandiamo a due punti vita a due punti vita sta sotto i germogli non è male ma sempre solo per evocare pezzo l'unimo pezzo che aiuta sempre la quest 22 carte in mano lui è abbastanza lontano da concluderla potrebbe esserci utile andarci a prendere sta carta sai si me la vado a prendere wow wow interessante a questo punto lo facciamo questa a questo punto lo facciamo portiamo Maokai a 18 su 25 se riuscissimo a trovare il lifesteal ma non lo riuscissimo a trovare purtroppo che cosa ci ok scartano loro peschiamo quantomeno Maokai ci vediamo va bene va bene vuole evolverlo per fare i danni a tutti in realtà a noi fondamentalmente questa cosa cambia quasi niente questo lo facciamo subito questo lo dobbiamo fare subito noi abbiamo fatto danno che è un po' brutto mi sarebbe piaciuto farlo un dannino ok 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 dobbiamo resistere a questo attacco in qualche modo in a way or another raffica quindi se lui prova a ucciderci il 3-2 in realtà noi possiamo contestarlo benissimo così ok è abbastanza buffa questa situazione ci penso in realtà cosa ci sta facendo qua lui sta a tre carte non non lo vedo come un grosso problema questo no per niente va bene così va bene così giochiamo quello che possiamo giocare leghiamo pezzo dobbiamo fare così dobbiamo fare così perché dobbiamo riuscire a fare almeno un danno al nostro avversario per vincere la partita due o due carte rimaste ok facciamo così facciamo così un danno dovrebbe passare in qualche modo ok ok peschiamo e vinciamo la partita GG non ci resta che passare il nostro avversario passa va a pescare la carta non ci sono più carte non ci sono più carte GG per noi nonostante Uswain sia immortale l'abbiamo ucciso per vie traverse ok così dovrebbe funzionare il mazzo se l'avversario non è super aggressivo si riesce a portare a termine questa questa combinazione bene ragazzi questo era il primo di una lunga serie di video che andranno ad analizzare i nuovi mazzi cominceremo a portare anche mazzi top tier almeno a mio parere nei prossimi giorni spero di riuscire a fare non dico tutti i giorni ma quasi nel frattempo io vi rimando come al solito sotto in descrizione c'è il codice della lista tutti quanti i miei link social vi ricordo che tutti i giorni dalle 16.30 alle 20.30 sul canale Viola noi siamo in live quindi se volete veniteci a trovare e niente ragazzi buon gioco a tutti grazie a tutti grazie a tutti